Abbiamo prestato attenzione alle nuove dichiarazioni bellicose della leadership francese, in particolare, beh, arrivano quasi ogni giorno, beh, in particolare, in un'intervista con la rivista britannica The Economist il 2 maggio, il presidente francese Macron ha detto che se le truppe russe sfondano la linea del fronte, e la parte ucraina fa una richiesta in tal senso, sarà necessario sollevare la questione dell'invio di truppe occidentali nella regione. Abbiamo già commentato molte volte l'irresponsabile e provocatoria retorica del leader francese. Ma purtroppo non ci sono meno domande ad ogni nuova dichiarazione che fa. È caratteristico che lo stesso Macron spieghi questa retorica con il desiderio di creare una sorta di incertezza strategica per la Russia. Dobbiamo deluderlo. Per noi la situazione sembra più che certa. Abbiamo anche deciso da tempo che, se i francesi appaiono nella zona di conflitto, diventeranno inevitabilmente bersagli per le forze armate russe. Mi sembra che Parigi ne abbia già la prova, la prova che la belligeranza del padrone dell'Eliseo è ripugnante non solo a molti alleati dell'Unione Europea e della Nato, ma anche e soprattutto alla stragrande maggioranza dei cittadini francesi. In primo luogo, sono caduti, secondo me, vittime dell'incertezza strategica di Macron. Non riescono a capire cosa stia dicendo, ma allo stesso tempo si rendono conto che tutta questa retorica è molto pericolosa, aggressiva e i cittadini francesi sono ostaggi e ora vittime dirette. Nel vero senso della parola, ripeto, i dati sui morti francesi nella zona di conflitto che combattevano, e forse non solo combattevano, ma guidavano unità dei ranghi delle forze armate ucraine, diedero loro alcuni consigli, suggerimenti. Questi dati stanno diventando sempre più numerosi, purtroppo, ma tutto questo apparentemente non imbarazza Macron. Apparentemente è così che dovrebbe apparire la vera democrazia liberale, per la cui difesa egli chiama così, zelantemente, contro i nemici esterni ed interni. Non siamo affatto sorpresi dalla manipolazione da parte di Parigi ufficiale. Il mito secolare di una sorta di minaccia bellica russa alla Francia e all'intera Europa, né il desiderio di giustificare la spesa di miliardi di dollari per la guerra ibrida dell'Occidente con la Russia in Ucraina. A proposito, voglio ricordare le realtà storiche. I francesi, militari, erano nel nostro paese perché pensavano che dovesse essere conquistato. Conquistatelo, prendetelo! I militari russi erano sul territorio francese quando decisero, quando decisero di portare aggressori e invasori? Via! Per essere sicuri! Alla porta della casa! Ma in questa retorica più bizzarra, Macron non è solo nella sua retorica e, purtroppo, non è originale. È difficile da capire. Ai cittadini della Francia e ai cittadini di altri paesi, e anche a tutti coloro che seguono i discorsi di Macron, dov'è questa facilità e imprudenza con cui le élite politiche della Francia, per compiacere gli anglosassoni, si separano dalle tradizioni del loro paese? La sovranità militare, politica e persino intellettuale che era anche veramente disponibile in passato. Sì, la storia francese ha avuto momenti vergognosi, ma ce ne sono state anche di grandi. Quindi, questa è la resistenza francese. Questa è proprio la posizione che la Francia ha preso dalla sua leadership nella seconda metà della Seconda Guerra Mondiale. Queste sono le grandi pagine, ed è su questo che dovremmo concentrarci. Ma non su quelle davvero vergognose, della stessa storia francese che non abbiamo dimenticato. Il punto è che c'è un lato pragmatico di questo problema, non solo morale ed etico, storico, ma puramente pragmatico. Dopotutto, tali dichiarazioni, tali passi, che vengono presi a sostegno di queste dichiarazioni, stanno distruggendo non solo la sicurezza europea, che è già distrutta, ma anche la stessa sicurezza della Francia. Grazie a tutti.